L'obiettivo è quello di favorire il trasporto pubblico, aumentare la velocità dei bus, disincentivare l'uso dell'auto. L'amministrazione comunale, che dell'ambientalismo ha fatto una bandiera, ha così installato i controlli elettronici sulle corsie degli autobus. Nuove videocamere sono comparse dallo scorso settembre anche in via Montebello, via Zarotto, in zona stazione. Risultato qualcosa come 16.000 multe in un mese. Un'enormità, tanti soldi per le casse comunali e puntualmente si scatenano le polemiche, anche perché all'apparenza gli automobilisti certamente hanno sbagliato, ma in molti casi sembra di capire inconsapevolmente. Oggi a scendere in campo è la Feder Consumatori Parma. In questi giorni, dice una nota, molti cittadini hanno iniziato a ricevere le contravvenzioni per avere oltrepassato i varchi introdotti dal Comune di Parma e si tratta di multe salate, di oltre 74 euro se pagate entro cinque giorni beneficiando della riduzione. Diversi cittadini, dopo essersi rivolti alla Polizia Municipale, sono venuti a conoscenza di aver accumulato 40 sanzioni che man mano saranno recapitate. Ora Feder Consumatori chiede all'amministrazione comunale di sedersi ad un tavolo per trovare una soluzione, a partire da una immediata sospensiva delle sanzioni in attesa del confronto. Occorre evitare sborsi di migliaia di euro ai cittadini e non lasciare la vicenda nelle mani delle vie giudiziarie, sempre possibili, secondo l'articolo 198 del Codice della Strada, ma costose e rischiose. Ora vedremo quale sarà la risposta del Comune di Parma circa queste violazioni amministrative continuative.